I cimeli di Muhammad Ali finiscono all'asta a New York. Si tratta di quasi 100 oggetti appartenuti al più grande pugile di sempre deceduto all'inizio di quest'anno. The Greatest, così è stata battezzata all'asta, mette in vendita anche la prima cintura di campione dei pesi massimi, quella vinta contro George Foreman in Zaire, che parte da un valore di 600.000 dollari. Un altro pezzo da collezionisti è la lettera manoscritta al magazine Life, in cui Cassius Clay annuncia la sua conversione all'Islam.